Sarà Raffaele Gualazze ad inaugurare la 65esima stagione concertistica del Lente Concerti che partirà il 17 novembre al Teatro Rossini. L'artista Rubinate proporrà nell'occasione alcuni brani tratti dai suoi ultimi progetti Dreams e Dreams in Jazz, oltre ai classici della sua carriera e rivisitazioni internazionali. Proponiamo un cartellone molto ricco, con orchestre sinfoniche, grandi solisti e un repertorio che abbraccia tantissime tendenze musicali del mondo di oggi. Comprendendo in queste anche il jazz, la canzone d'autore e il fatto poi che apriamo proprio con Raffaele Gualazzi dimostra proprio questa nostra volontà di allargamento a un pubblico anche di giovani e comunque un pubblico crossover attraverso i vari linguaggi della musica. Certo il focus rimane sempre la grande musica classica perché è un pochino quello che ci caratterizza e caratterizza la nostra storia e per questo insomma che abbiamo creato nel corso del tempo un pubblico molto affezionato. Quest'anno è l'anno dei pianisti ed è l'anno della filarmonica marchigiana che collabora con noi da sempre e che accoglie le nostre proposte. I pianisti propongono concerti per pianoforte e orchestra nel repertorio classico tradizionale. Il primo dei dieci appuntamenti orchestrali in programma fino ad aprile sarà affidato alla lituana Klaipeda Chamber Orchestra per poi continuare con Arseni Moon, Alexander Longwich, il ritorno di Stefan Milenkovic e Nicola Piovani alla direzione della Form. E poi ancora Ravelle Bizet proposti dall'orchestra sinfonica abruzzese, l'orchestra Ico Suoni del Sud e poi tributi a Frank Sinatra, Ezio Bosso, il Requiem di Mozart fino alla chiusura del 30 aprile con Alessandro Taverna. Gli abbonamenti costano da 150 euro i ridotti a 230. Se pensiamo che i concerti sono 14 credo che siano prezzi più che abbordabili. E i biglietti? I biglietti vanno da 8 a 23 euro. Si acquistano il giorno stesso del concerto secondo le date di apertura del botteghino. 8 euro sono i costi più bassi, ridotti, 23 euro il biglietto intero nei primi posti.